La matematica dei rami è il nuovo disco di Max Gazet edito dal 9 aprile 2021 è arrivato adesso dopo che nella recensione ho detto che avrebbe tardato e di fatto ha tardato di letteralmente 10 secondi dopo la recensione perché infatti ho schiacciato stop e Amazon mi scrive il tuo pacco è pronto per il ritiro quindi ottimo, la solita fortuna ma la matematica dei rami, questo è il vinile la copertina è molto bella, troviamo appunto il ritratto di Max Gazet all'interno dei rami di un albero e il suo nome rappresentato attraverso formule matematiche è molto originale, la copertina mi piace tantissimo all'interno invece troviamo i testi sulla sinistra della copertina non c'è nessun libretto, cosa che mi ha deluso un po' ma comunque il vinile è sempre un bellissimo oggetto quindi testi a prova di miope insomma sulla destra abbiamo una foto di Max Gazet e dentro ovviamente il vinile lato A che inizia considerando e arriva fino alle casalinghe di Shanghai il lato B che parte con il farmacista e si chiude con figlia quindi questo è il vinile di Max Gazet fuori dal 9 aprile 2021 io vi rimando alla recensione che è uscita l'altro giorno vi lascio il link qui sopra in descrizione fatemi sapere se l'avete comprato anche voi, se vi è piaciuto e soprattutto quali sono le vostre tracce preferite insomma cosa ne pensate di questo disco noi ci vediamo ad un prossimo video